...così? Corriamo al rischio dopo un bel pranzo con le luci spente di fare... ...così, va bene? ...e che si vanno a fare... ...ok. Caravaggio addirittura fu discritto nell'epoca come interrotto nella storia dell'arte. Poussin, il pittore francese che venne a Roma nel primo secento, lui disse... ...questo Caravaggio è la distruzione dell'arte, è un terrorismo nell'arte... ...perché lui capovolse tutte le regole nella storia dell'arte. ...fluì un tipo molto curioso, ma anche la sua parte sfidò l'arte dell'epoca. E nel libro parleremo un po' di... ...il qualche segreto di Caravaggio. Ci sono tante domande, leggo un po' di domande. Come mai lui riuscì a lavorare e dipingere così velocemente? Nessuno, nessuno dipingeva talmente velocemente come Caravaggio. E come mai lui fece questi fondi così cubi e bui? ...e l'attribuzione di tante opere sono molto discusse di Caravaggio con mai. E la domanda chiara è cosa ci vuole dire con queste sue opere? Questo è un quadro di lui quando sta molto meglio in gesso da un suo contemporaneo. Ma parliamo un po' di questo Caravaggio. Il suo vero nome è Nicolangelo Melisi. I suoi genitori, che però avevano una bella cultura, non erano poveri. Erano del cento medio, forse del cento alto anche. Erano molto legati al clan della Colonna. Lui nacque a Milano nel 1571. Anche la data della sua nascita era molto disposta per gli anni. Intimamente, in questi ultimi anni, hanno sveolato, hanno risolto tanti sebrei figli. Nicolangelo Melisi e Caravaggio. Visto che c'era un'altra persona che portò quel nome, Nicolangelo, lui decise subito ad usare il soprannome da Caravaggio. Lui era finito di essere nobile con quel soprannome da Caravaggio. Ma altronde è arrivato a Roma. Lui è il primo artista nella storia di fingere di essere un artista affamato, squatrinato. E non lo era. Ma fatto assolutamente. Proprio un pazzo fuori di destra. Lui venne a Roma molto precoce, 18 anni. Aveva già lavorato in una bottega a Milano, ma era come una fabbrica. Lui a Milano dipinse dettagli. Lui dipinse fiori, foglie, ghirlande e così via i dettagli. Il maestro faceva i volti, i ritratti di mezzo. Lui faceva le decorazioni. E lui imparò qualcosa a Milano. Perché a Milano la pittura era già un big business. Più velocemente che dirigevi. Più soldi che tu intascavi. E lui si mise a militare il pittore più rapido della storia.